So che comunque te sei molto sullo stile John Carpenter, David Lynch Quali sono i tuoi tre film preferiti? Mettiamola giù così Allora, vabbè, diciamo che come ha detto Evidence dei Daily Dead People poco tempo fa su Twitter There's no favorite rapper like there's no favorite movie Quindi non c'è un film che posso definire il film più bello della storia Quello che a me ha segnato profondamente è Razorhead del 77 di David Lynch Perché descrive pienamente la vita di un uomo che vive tra l'incubo e la realtà Al punto che si incrociano queste due realtà appunto Secondo sicuramente la mosca di David Cronenberg E poi ovviamente Matrix Cavolo, infatti ho notato che comunque ad esempio sono registi Che scavano molto nell'intimo dell'essere umano E quella è la cosa che quasi ti sciocca in un certo senso Perché comunque vanno proprio nell'intimo umano E anche tu hai uno stile su certi brani molto macabro Nel senso molto oscuro Crei un'atmosfera quasi scura E perché hai scelto questi tipi di film? Non lo so, forse perché Cioè alcuni film quando andavo a vederli va bene Mi facevano ridere, mi davano certe emozioni Però poi non sentivo più niente Mentre quei film mi hanno proprio scosso da dentro Aperto una porta proprio Esatto